Quest'anno per caso abbiamo visto la storia di Marco, la storia di Marco ci ha colpito e quindi noi siamo qui per consegnare a Marco. La fratres di Ponticino arriva a casa di Marco Cerofolini in una sera di dicembre che nessuno si sarebbe aspettato di vivere. Una donazione che servirà a raggiungere un sogno personale e collettivo grazie al coraggio di Marco e al servizio di Arezzo TV che ha fatto da megafono. È stato visto da questa associazione di volontariato che sono rimasti colpiti dalla storia, sicuramente un po' dal messaggio che c'è racchiuso dietro. Marco abita a Quarata, un borgo alle porte di Arezzo, convive con la sclerosi multipla dal 2012, ma questo non gli ha impedito di realizzare una mostra fotografica che ritrae proprio il borgo di Quarata, visto dalla sua prospettiva. Il progetto mio è di rendere Quarata fruibile per tutti. Poi devo valutare anche altre scelte mie, una carrozzina, una rampa. Avevo un progetto in mente. Poi se riesco vi documenterò quello che riuscirò a realizzare e spero di muovere qualche sensibilità su tante persone perché è possibile. Dopo aver conosciuto la storia di Marco, i volontari della Fratres hanno raccolto le donazioni durante la vigilia di Natale e hanno dunque deciso di destinarle alla sua causa. Era una serata particolare che noi facciamo ormai da tanti anni. È la serata di Babbi Natale, vestiti da Babbo Natale e gli Elfi. Andiamo nelle famiglie e loro ci accolgono a braccia aperte. Tante famiglie sanno ormai quello che facciamo perché non è la prima volta, non è una cosa fatta a caso. Ci fanno la donazione. Vorrei che veramente fossero abbattute queste barriere, ma abbattute sotto ogni punto di vista, non solo architettoniche, ma legali, legislative e governative. Nei progetti di Marco anche un Disability Day per far capire le difficoltà di vivere un centro storico e bagni accessibili nelle strutture aperte al pubblico. Una storia di resilienza e coraggio, dunque, che non si fermerà qui, proprio come Marco. Se mi fermo parecchio in carrozzina, poi rimuovermi è più faticoso. Quindi otto passi oggi, nove domani, c'era un libro, cento colpi di spazio, prima di dormire. Cento passi al giorno, prima di dormire.